che paura la collezione ciao bambini bambini ragazzi ah da simone e pietro voi siete bambini vi salutiamo noi siamo super alex io sono la loro amica e l'angelina siamo nuovi amici di simone e pietro e oggi le abbiamo preparato la sorpresa di your rusty part chi sono? i dinosauri c'era anche un film è vero c'è un film? è molto spaventoso l'avete visto? è del dinosaurio e tu l'hai visto? se si metti like vogliamo scoprire cosa c'è dentro la scatola nera misteriosa scatola nera cosa c'è dentro? che paura apriamo se no ci mangiano biana allora c'è qualcuno dietro di te non è lungo è lungo ho paura allora il cappellino che protegge dai dinosauri va bene adatti i mini baby dino che proteggono bellini allora guardate che bel cappellino bambini c'è scritto il rustic world è bellissimo è mio è tuo è tuo è rosso con il nero e ora è di alex aspetta le facciamo vedere tutte e poi le apriamo abbiamo un mini dino che è tutto marrone e gli occhi rossi questo mi sembra questo è vero brilla chi è? teranosauro fallo vedere ai bambini che teranosauro fermo teranosauro strex teranosauro strex vediamo teranosauro ok quattro anni in su è semplice un dinosaurino è qui dentro cos'è? vediamo no ragazzi certo prendi il rossauro che vuoi guardali anche te prendetene uno la possiamo aprire? ragazzi aspetta un attimo questo è il veleno wow bambini guardate c'è il veleno dietro le orecchie ffff 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 è un set di timbri fantastici timbri deve disegnarci sopra ffff 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 c'è anche il dinosauro marino si facciamolo si lo facciamo adesso subito ci disegni sempre con il penarello e stampa sulla carta no c'è una stampatrice stampatrice e questo è la collezione si bravissimo mordili tutti sono piccoli nuovi fratellini dai mega dinosauri questi sono i mini baby e ora possiamo aprire wow allora aperto togliamo la scatola anche madonna ho visto il dinosauro anche io ma sono troppi il dinosauro marino poi hai aperto adesso i mini baby ma dove è il dinosauro marino è lì vicino al mare è laggiù è laggiù adesso questi mini baby ci proteggono lo sapete il mio apre la bocca guarda compaggimento compaggimento la 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 vedete apriamo i timbrini no apriamo i timbrini si ecco ecco prenda il colore io te lo non uso e si timbra ah il colore sta scappando no 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 mi ha sporcato le dita oh bambini ora mi pulisco su di voi no no allora scegliete i timbrini io te lo non uso io voglio tu hai preso quello marino io prendo Rex vaia giriamo il nostro foglietto lo pieghiamo a metà così non lo coppiamo tutto ma che fai guardate bambini ci sono i penarelli si timbra qua si timbra là vai fa vedere schiaccia schiaccia wow che bello aspetta faccio un altro vai che si fanno i bacini o che combattono va bene adesso tocca a lei vai provete il tuo io prendo che è mio no vai schiaccia wow che mostro io allora prendo il tricera topo ma un altro come vedi la faccio un altro io prendo il tricera topo non c'è bisogno di sbattere con una falo e tanto si attacca allo stesso oh un altro mostro vediamo se questo combatte con questo ora uno mangia l'altro bambini che casino ora vado io ma ora che li abbiamo fatti li coloriamo con i penarelli si si vai mettetevi a colorare mettetemi vai vai fai guardami mi passi aspetta blu 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 brava blu bravi ma come siete bravi sai che Alex sta colorando meglio di te non uscire dalle reti dai mi sono sporcata tutta di blu davvero tutta blu e il naso si è sporcata il naso? si no non ci credo dai si anche ma che brava però non li colorai la lingua è rimasto blu anche la lingua lingua blu lingua blu lingua blu lingua blu hai trovato nella tua scattera nera misteriosa dei Jurassic World scrivilo sotto nei commenti e se invece non l'hai ancora avuta magari scrivi regalatemela si si se vuoi vero bambini noi siamo bravi facciamo regali di Natale a Natale puoi guarda come riescono a colorare ma neanche io così brava basta però la lingua ai denti non sono mai blu o hai mai visto un squalo con i denti blu? bravi bravissimi un applauso la lingua la lingua come? rossa? anche a me mi sa ma scusate sono andata troppo in avanti io prendo il grigio e che cosa succede? io con il grigio faccio le corna le corna grigia io faccio i denti perché sono sporchi 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 non sporchi che bravi ragazzi ecco ci siamo facciamo vedere bene 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 tutti Dino ciao e Dino bebe se ne vuoi uno metti like iscriviti al canale e guarda i video qui nei angoli noi vi salutiamo ciao 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 ciao